Le gare per riassegnare le concessioni balneari dovranno partire entro il 31 dicembre 2023, così come da sentenza del Consiglio di Stato, ma i comuni avranno la possibilità di prorogare la scadenza al 31 dicembre 2024. Sarebbe questa la modifica introdotta nel disegno di legge e concorrenza che approderà in aula al Senato lunedì prossimo. Il testo infatti non convince pienamente Lega e Forza Italia da un lato e Movimento 5 Stelle e Italia Viva dall'altro, ma il Premier Draghi si è imposto, la faccenda deve essere chiusa entro maggio, mentre l'emendamento del Governo allontana l'ipotesi del voto di fiducia. Le tante concessioni sui 150 km di costa abruzzese potranno quindi rimanere tali per un altro anno e non oltre, nel caso in cui vi siano ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva, recita il testo, comprese ad esempio la presenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della gara. Il testo insomma rimane piuttosto vago, così come è vago riguardo gli indennizi. Questi saranno a carico del concessionario subentrante per la perdita dell'avviamento, ovvero l'utile meno il costo figurativo, e per il valore residuo dei beni immobili e degli ulteriori beni su cui i gestori uscenti abbiano fatto investimenti purché non siano abusivi. Il valore residuo sarà calcolato sulla base delle scritture contabili, ovvero di una perizia giurata redatta da un professionista abilitato. Il fatto però che nella formula venga utilizzato un esempio apre uno spettro di ulteriori e indefinite possibilità. Inoltre, obiettano alcuni, si rischia un'esplosione di contenziosi a scopo dilatorio. Rimandare la scadenza non è una soluzione, fanno sapere le associazioni dei bagnatori, vogliamo certezze sugli indennizi. Quello in Senato però sarà solo il primo step per approvare una riforma ai cui 12 articoli, tra cui anche quelli riguardanti taxi e NCC, saranno esaminati e modificati alla Camera. Ma nei gruppi di centrodestra serpeggia il malcontento di chi già carezza l'idea di approvare per ora il testo, ma poi, finito il governo Draghi, il prossimo anno divarare una nuova proroga delle gare. Se il centrodestra vincerà, cambieremo tutto, ha dichiarato l'onorevole forzista Mallegni. Parole tratte da un futuro che per ora è solo ipotetico.